Ehi, ho guardato un pezzo di me con te, ma il tipo è bravissimo, c'è una mimica, ho guardato un pezzo di Le Creature, di lui che è al tavolo con forse l'editore, era in francese, l'editore è il suo tipo, e gli spiega la storia, allora lui dice che è bravissimo, e allora si reinventa lì.